Ed eccoci qua con John McCourt, che apprezzo molto per essere qui, in questo canale del ritratto di Ulisse. Perché sono qui con John McCourt? Beh, intanto perché è un esperto in materia, quindi di Joyce, di letteratura di Joyce. E poi anche per questo libro qua che mostro, che è la Guida alla lettura dell'Ulisse di James Joyce, edito da Carrocci Editori, che è uscito proprio quest'anno, marzo 2021. E ecco, proprio per introdurre John McCourt, approfitto della quarta di copertina, dove leggo che insegna letteratura inglese all'Università di Macerata, ed è il cofondatore della Trieste Joyce School e presidente eletto dell'International James Joyce Foundation. Ecco, partendo proprio da qua, può dirci qualcosa di queste Trieste Joyce School e International James Joyce Foundation, di cosa si occupano? Ecco, mi piacerebbe sapere qualcosa in più, ecco. Ok, allora, la Trieste Joyce School esiste da quasi 25 anni, è stato fondato appunto con il professor Crivelli dall'Università di Trieste, e lo gestisco io con Laura Pellaschiar, un altro docente dell'Università di Trieste, ed è una summer school appunto che dura una settimana e si svolge tutto in lingua inglese, e ogni anno c'è, diciamo, un raduno di una sessantina di appassionati di Joyce, di studiosi, ma anche di semplici lettori, se vogliamo, che vengono appunto nella seconda città di Joyce, Trieste, la nostra bella Trieste, come la chiamò lui, e la mattina ci troviamo, facciamo delle conferenze, e poi nel pomeriggio, forse il cuore della scuola, dei gruppi di lettura, in cui affrontiamo Ulisse, ma anche Finnegan's Wake, ma anche per chi sta arrivando a Joyce, diciamo anche Dubliners, per esempio, gente di Dublino, ed è inusuale, perché Joyce, come lei sa, ha un seguito molto vasto, molto variegato, per cui il più giovane è stato, aveva tipo 17 anni, e abbiamo un studioso che viene ogni anno, che adesso mi pare che abbia compiuto 93 anni, per cui ci sono tutte le età, anche perché Joyce offre cose diverse, dipende dall'età del lettore, secondo me. Questa è la Joyce School, consolidata negli anni. L'International James Joyce Foundation, invece, è una fondazione internazionale, che è stata fondata nel 1967, a Dublino, però non dagli irlandesi, perché a quel momento gli irlandesi non amavano particolarmente Joyce, un gruppo di studiosi americani, e sempre questo signore che ho appena citato, di 93 anni, Fritz Sen, che gestisce un centro di studi joyciani a Zurigo. Allora, semplicemente la Foundation tenta di promuovere attività joyciane per gli studiosi in giro per il mondo. Ci troviamo una volta ogni due anni, in una città diversa, per un grande convegno joyciano. Quest'anno è stato, ahimè, a distanza, ma a Trieste, per la terza volta. Il prossimo anno ci troveremo, perché è anche il centenario della pubblicazione dell'Ulisse, proprio a Dublino, e aspettiamo almeno 500 studiosi da tutto il mondo. Per cui è un grande evento, e io ho il privilegio di essere presidente al momento della fondazione, che ha la base in un posto che forse non si potrebbe aspettare, Tulsa, Oklahoma, l'Università di Tulsa. Però va benissimo, perché lì c'è un grande fondo joyce, ci sono, per gli studiosi, il grande biografo Richard Ellman, di Joyce, ha lasciato tutte le sue carte proprio a quell'università lì, per cui si va lì appunto a studiare. Queste sono le due cose. Il symposium si fa sempre intorno a Bloomsday, per forza, e poi la scuola joyce a Trieste si fa la settimana successiva, insomma l'ultima settimana sempre di giugno. Ed è aperto a tutti, basta però parlare in inglese. Giustamente, giustamente. Lei stava adesso parlando anche di un aspetto importante, ovvero del pubblico variegato di questo romanzo, e volevo avvicinarmi a questo discorso, soprattutto per il fatto che in Italia, per esempio, l'Ulisse di Joyce è sicuramente un libro tanto venduto, dove fra l'altro adesso cominciano ad aumentare le traduzioni, cominciano a proliferare, però scarsamente affrontato fino in fondo dai lettori, magari anche molto abbandonato. Ecco, la mia domanda poteva essere anche questa qui, perché se è vero che ci sono parecchie traduzioni che cominciano a essercene svariate, però forse il lavoro sulla critica o anche il lavoro di guide come queste è ancora un po' indietro, nel senso che, ecco, da quel punto di vista io aspettavo un'opera come questa che aiutasse un po' e accompagnasse il lettore, perché effettivamente fino adesso magari di questo problema se ne occupavano magari i traduttori stessi e quindi non è sempre così facile. Quindi mi chiedo, può essere anche per questo? Cioè ci sarebbe forse bisogno di approfondimenti come questo che ha provato a fare lei per aiutare un po' il pubblico a seguire meglio quest'opera in maniera più tranquilla, più consapevole? Ecco, mi chiedo. Certo, ma diciamo una cosa, è inutile fare finta che la lettura di Ulisse è semplice o facile, che basta, insomma, avere l'introduzione, perché con l'introduzione restano comunque tutti i nodi difficili da superare. Nella lingua inglese ci sono parecchie guide che si possa prendere, ma appunto, come lei ha appena detto, in Italia, molto, molto di meno. Forse anche perché l'accademia non guarda bene a volte un lavoro divulgativo che è quello che io tengo sia il mio libro, un lavoro divulgativo. Anzi, per me fare un lavoro divulgativo che può essere aperto a un pubblico più grande di lettori mi sembra molto importante. A volte la critica sembra staccata dal lettore che vuole leggere, no? E spesso trovo lavori di libri di critica che sono scritti appunto per 15 addetti e non per chi vuole veramente approfondire le proprie conoscenze di Joyce. E' vero che c'è una proliferazione di traduzioni in Italia, cosa che io ritengo molto positivo, perché questa idea che ci sia una sola traduzione non tiene, perché si sa che per interpretare un libro della complessità dell'Ulisse insomma, uno fa una versione sapendo benissimo di necessariamente eliminare tante possibilità nella lettura. Per cui la versione classica diciamo degli anni 60 di De Angelis resta importante, un classico appunto datata però secondo me. E le versioni più nuove soprattutto quello di Tre Terinoni coglie altre cose, coglie altri aspetti soprattutto la cultura irlandese e anche il senso d'umorismo che Joyce dimostra nel libro. Secondo me questi alimenti sono molto più presenti nel lavoro di Terinoni. Io ho voluto tentare appunto proprio perché non c'era una guida all'Ulisse per un lettore italiano. Ed è stato un lavoro più difficile di quello che pensavo di dover fare. La guida doveva essere molto meno lunga. però io non ce la facevo a stringere ancora di più quello che ho fatto. E abbiamo dovuto cambiare colana per inserirla in questa qui. Proprio perché è complessa, proprio perché bisogna ambientare il lettore. Io ho insegnato più volte Ulisse nelle università e non nascondo con qualche difficoltà perché in un semestre ai 11-12 settimane abbiamo 18 episodi. Ogni episodio equivale più o meno a un piccolo romanzo in sé. Per cui i studenti, le mie vittime di questa lettura forzata insomma hanno fatto parecchia fatica. Però arrivano alla fine contenti perché a mio avviso il miglior modo di leggere Ulisse e certo una guida serve, il gruppo di lettura serve anche e questo manca in Italia. Una delle prime cose che noi abbiamo fatto a Trieste tanti anni fa abbiamo fondato una piccola associazione culturale che si chiamava la Bottega Joyce e l'unico scopo era di riunirci e leggere Ulisse e anche lì c'erano persone di diverse età c'erano ex studentesse di c'era un'ex studentesse di Joyce stesso che aveva più di 90 anni e studentesse anche di Stanislaus Joyce e poi persone più giovani e ognuno ha portato insomma il suo background perché questa è la bella cosa dell'Ulisse se uno è esperto di musica può trovare una chiave per entrare nel testo se uno sa qualcosa della lettura classica e dell'omero anche lì c'è una chiave di accesso se uno è esperto o sa qualcosa della storia irlandese anche questo può aiutare ad ambientare e se metti intorno a un tavolo 5, 6, 7 persone con le varie background culturali allora il testo si può diciamo si può commentare collettivamente e diventa un esercizio più molto ricco infatti si va molto lentamente quasi parola per parola e a volte anche senza trovare una sintesi perché a volte insomma diciamo che ci sono dei black holes nel libro in cui uno si perde e questo va bene infatti io io dico sempre anche agli studenti si può anche saltare si può anche tornare indietro si deve anche tornare indietro non è la solita lettura in cui si va spedito verso la fine del libro cioè ci costringe continuamente a tornare indietro perché così facendo si comincia a capire perché certe cose sono lì lui non spiega mai niente ma la ripetizione dei temi è una cosa importante secondo me per cui è vero ci sono tante introduzioni e il libro molto famoso è poco letto credo che in tante case e non solo in Italia c'è un'edizione dell'Ulisse abbandonato dopo due o tre capitoli oppure abbandonato a metà l'ho abbandonato pure io la prima volta non ce la facevo a superare Circe che è adesso un episodio che apprezzo molto però ho dovuto lavorare impegnarmi investire tempo per apprezzare certi elementi del libro però è una bella avventura buttarsi nel testo gioisiano però appunto e lo scopo non è di arrivare alla fine io non voglio paragonare l'Ulisse alla Bibbia ma non è che si siede per leggere la Bibbia dall'inizio alla fine così si può anche fare ma si può anche avere dei passi dei episodi che sono più belli di altri insomma o più per un gusto personale è stessa cosa con Joyce per cui io vedo i 18 episodi come lavori in sé quasi opere in sé e questo può essere anche un modo utile per esempio il terzo capitolo Proteus Proteo è difficile è pieno di filosofia e siamo solo nella testa di Stephen Daedalus non succede niente spesso il lettore lì si perde e abbandona e io dico sempre no 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 puoi anche abbandonare ma fra un fra un paio di pagine arriva lì Paul Bloom e entriamo in un mondo molto più abbordabile un modo di pensare molto più secondo me semplice e divertente quando io ho studiato all'università Joyce e Ulisse a Dublino il mio professore ci ha consigliato di saltare i primi tre episodi cominciate col quarto e il libro vi prenderà e poi farete la fatica di superare i primi tre perché è anche vero che il libro comincia due volte per cui può anche essere letto non nel modo cronologico ma un po' così in modo sparso così la risposta è stata troppo lunga per la domanda chiedo scusa no 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 assolutamente no magari è la domanda che era troppo lunga ma anzi la sua risposta mi ha fatto venire in mente quando parlava del gruppo di lettura per esempio che credo sia una cosa molto importante per quanto riguarda Ulisse se ne organizzano anche in Italia durante i vari Bloomsday perché comunque non dimentichiamoci che Joyce stesso probabilmente se non fosse stato scrittore magari sarebbe stato un cantante un tenore fra l'altro c'è l'episodio l'undicesimo episodio quello delle sirene dove è molto evidente questa presenza della musica infatti mi chiedevo a questo punto e lei nel libro mi sembra ne parlava anche cioè di affrontare l'Ulisse non solo come una lettura testuale ma proprio come un ascolto mi sembra che a un certo punto si parlasse proprio di leggerlo ad alta voce perché effettivamente la musicalità è fortemente presente quindi quindi non solo leggerlo ma ascoltarlo ecco credo credo di sì che il gruppo di lettura sia fondamentale per questo tipo di libro assolutamente sì cioè quasi quasi come la poesia praticamente sì è vero sono d'accordissimo infatti secondo me sappiamo che Joyce era meticoloso nello modo di scrivere e l'attenzione al dettaglio no e quella attenzione che un poeta dà a un testo di solito molto più breve ma per costruire un paragrafo Joyce metteva giorni infatti c'è quel famoso scambio che i biografi parlano no lui viene chiesto a Diego se aveva avuto una giornata positiva di lavoro ho detto sì sì assolutamente ho scritto un'intera frase e le hanno chiesto ma qual è il problema non trovi le parole ho detto no le parole il problema è l'ordine delle parole e questa attenzione quasi maniacale nell'ordine delle parole perché lui diceva pure che l'inglese era una tortura dover scrivere nell'inglese dove siamo costretti a usare subject verb object c'è poca flessibilità per uno che conosce bene l'italiano o il francese e queste altre lingue l'inglese è diventato un limite insomma un limite che Joyce poi tenta di superare perché spesso ci sorprende con l'ordine delle parole e questo è anche va verso la musica secondo me dove si gioca in un modo molto simile per cui io sempre chiedo insisto che è importante ascoltare il testo anche prima di capirlo perché a volte è musica e non sto dicendo che è musica pura perché certo poi bisogna entrare nei dettagli ma spesso Joyce sappiamo utilizza in modo strano anche la punctuation l'ultimo capitolo non c'è per capire bisogna leggerlo ad alta voce perché si vede si sente la puntuazione che non c'è lì che lui non ha messo nel testo ma è nel testo perché lui l'ha tolto poi all'ultimo momento per cui è solo ascoltando e vedi questa cosa sì lui era convinto che Sirene era un'opera musicale diceva che era l'opera musicale più bella di quell'anno insomma e si sapeva che si sa che lui andava sempre all'opera lirica è chiaro che andava anche perché voleva tentare poi di tradurre in parole gli effetti della musica insomma e secondo me è riuscito in questa in questa impresa per cui sì ascoltarlo ad alta voce è molto utile molto utile e poi anche anche nella traduzione è molto utile non solo nella versione originale per cui è assolutamente da consigliare certo sicuramente io già che c'era volevo anche far vedere un po' nel concreto ecco questo per esempio è la parte dedicata al decimo episodio delle Rocce Erranti questa guida segue ogni singolo episodio del romanzo dell'Ulisse per ogni singolo episodio come vediamo all'inizio c'è una parte riepilogativa una parte dedicata alla trama e poi la parte successiva del commento qui addirittura nelle Rocce Erranti siccome è un episodio un po' particolare perché a sua volta contiene all'interno per così dire 18 sotto episodi per ognuno di questi 18 sotto episodi c'è un nuovo assunto un nuovo commento quindi è molto dettagliato molto dettagliato e poi c'è prima di tutto c'è un'introduzione un'introduzione da cui ho estratto alcune parti che mi sembrava interessanti commentare una si riferiva a qualcosa di cui stavamo accennando all'inizio dell'introduzione possiamo leggere una citazione di Italo Svevo il quale scrisse in una lettera passai due mesi laboriosi sull'Ulisse mi incantò e mi distrusse era semplicemente terribile la lettura del libro è durata tanto che quando sono giunto alla fine avevo più o meno dimenticato il principio poco dopo questo non è più Italo Svevo che parla ma l'autore quindi John McCourt lo sforzo per leggere l'Ulisse assomiglia a una ricca e complessa avventura una volta conclusa la lettura dell'opera la miglior cosa è ricominciare da capo e rivivere per una seconda volta con occhi più consapevoli e preparati ecco io a questo punto ciò che mi viene da dire è una domanda che riguarda appunto il pubblico di oggi che si trova a leggere l'Ulisse la domanda è ma il fatto che l'Ulisse sia un libro impegnativo sfuggente certe volte ostico il fatto di non riuscire a capire tutto il fatto di non ottenere mai un risultato compiuto il fatto certe volte di dover saltare ricominciare riprovare tutto questo è un male è un problema oppure è un bene per me è un bene fa parte della ricchezza del libro e ci costringe anche a pensare alla lettura in un altro modo di pensare anche alla complessità del libro ma anche delle cose che ai nostri tempi semplifichiamo tutto riduciamo tutto in un tweet ma il mondo non è così insomma però è chiaro che è una sfida che con i tempi di oggi con la velocità di oggi non è per tutti purtroppo per cui bisogna rallentarsi bisogna avere grande pazienza ma secondo me è questa necessità di tornare sempre all'inizio di rivedere di ogni volta che io leggo l'Ulisse e lo leggo da 30 anni ogni lettore è diversa continua a notare cose che non avevo notato nella lettura prima anche quando faccio con i ragazzi nelle lezioni vengono sempre fuori cose nuove e questo è incredibile insomma la profondità del libro la complessità del libro e non è una complessità per essere complessi per così ci sono tanti layers tanti strati di significato che si può scavare e questo per il lettore per un certo tipo di lettore è un processo arricchente che anche è un modo di appunto di riconoscere la complessità appunto del mondo intero che ci circonda che troppe volte semplifichiamo togliendo anche diciamo quasi la dignità della complessità dell'essere umano insomma perché nella complessità noi viviamo nella complessità per cui Joyce ci costringe anche a ad essere consapevoli di tante cose sempre in un solo momento e che è un po' il nostro stato di essere tutt'oggi insomma però sì non è semplice non è semplice ma si può sempre ricominciare non c'è fretta e questo è il punto io preferirei leggere bene uno dei 18 episodi che leggere in fretta i 18 episodi perché se uno legge troppo in fretta non può cogliere neanche si può cogliere molto poco purtroppo del significato per cui a volte bisogna fermarsi soffermarsi e non è diverso però di altre grandi opere d'arte insomma stiamo ancora in quest'anno dantesco scoprendo cose nuove nelle letture di Dante dopo centinaia di anni insomma i grandi scrittori continuano a dare e ad offrire significati nuovi ai tempi nuovi ai nuovi chiavi di interpretazione e Joyce fa questo ci sono pochi scrittori che fanno questo soprattutto del periodo moderno diciamo degli ultimi cento anni e lui crea delle opere d'arte veramente uniche infatti l'Ulisse è unico non è non ha non ha non ci sono versioni dopo Joyce di quello che ha fatto Joyce perché come si può seguire un libro del genere infatti la generazione di scrittori dopo Joyce in Irlanda hanno sofferto molto perché sembrava che lui aveva già occupato tutti i spazi possibili e hanno sofferto adesso non soffrono più vedono Joyce come una cosa che apre tante porte di scoperta però non era sempre così lei fra l'altro adesso aveva citato Dante che sappiamo essere un autore molto molto caro a James Joyce e sempre in termini di questo di questo discorso della di ciò che è oscuro all'interno di questo romanzo nell'introduzione della guida c'è una citazione di Paolo Amalfitano il quale dice l'effetto più evidente nella lettura di Ulisse è dato dalla compresenza di un'estrema chiarezza e di un'estrema oscurità quindi chiarezza nel senso di immediatezza nella presentazione degli eventi nell'intensità nelle impressioni nell'attualità del racconto ma nello stesso tempo oscurità parziale o totale del significato ecco mi ha sempre rimandato questa dicotomia chiarezza oscurità a una terzina dantesca del ventunesimo canto dell'inferno dove praticamente Dante si affaccia nelle malebolge cioè nella parte più oscura dell'inferno e dice guardando in giù restammo per vedere l'altra fessura di malebolge e gli altri pianti vani e vidila mirabilmente oscura ecco c'è questo simolo importante di Dante mirabilmente oscura cioè di un qualcosa che lui riesce a vedere benissimo ma nello stesso tempo è totalmente buio io ecco ho trovato nella lettura dell'Ulisse questa sensazione qua c'è questa sensazione e con questo voglio anche confortare i lettori che magari hanno un po' paura di questo cioè non è che si brancola solo nel buio all'interno dell'Ulisse di Joyce ma ci sono momenti di forte illuminazione quasi accecante non a caso si parla pure di epifanie nella poetica giosiana quindi non so lei è d'accordo con me in questo sì sì assolutamente alcuni episodi sono molto quasi facili da leggere Joyce è anche un realista nel senso nel senso che fa il realismo per esempio nell'episodio ciclope lì ci sono si alternano due tipi di narrativa ma uno è questa voce narrante di unnamed il unnamed narrator e lì è facile da seguire assolutamente è anche divertente è anche molto vivace però nello stesso tempo c'è un'altra voce che tira dentro tutti questi strani commenti diciamo o delle liste parlano della politica irlandese ma poi c'è c'è un altro registro nei interpolazioni di questo capitolo che è un po' più difficile forse da capire ma comunque la parte trainante è questo questo narratore che che spiega quello che succede quel giorno in quel pub in questo episodio fra Bloom e il cittadino e funziona molto bene secondo me è vero che Joyce gioca con appunto la chiarezza e l'oscurità lui poi utilizza in Finnegan's Wake il termine chiaro-oscuro diventa la stessa cosa in qualche modo forse il punto è che lui non spiega mai niente è lì e dobbiamo capire noi e a volte cose che sembrano oscuri poi poco alla volta secondo me si trova la spiegazione leggendo in avanti mettendo insieme i pezzi si costruisce ma ci sono tanti elementi nelle letture che ci fanno andare avanti comunque perché seguiamo soprattutto Bloom nella sua giornata lo seguiamo per la città se uno conosce la città di Dublino è facilitato nell'orientarsi anche nel testo a mio avviso per cui non vorrei appunto dare l'impressione che è un libro oscuro un libro impenetrabile perché è tutt'altro e che ci sono dei passi difficili certamente ma poi a volte c'è una chiarezza che uno non può neanche aspettare arriviamo al 17esimo episodio Ittica questo episodio che è diviso in domanda e risposta quasi scientifica come il catechismo in cui finalmente troviamo tante informazioni che in un romanzo diciamo tradizionale avremo trovato nel primo secondo terzo capitolo in cui capiamo un po' il background di Bloom e di Stephen delle loro vite però troviamo anche un sacco di informazioni e non sappiamo cosa fare di quelle informazioni tranne ridere perché sono anche cose a volte molto molto divertenti e troviamo che Bloom viene descritto come un lover of water questo elemento e poi troviamo la descrizione dettagliatissima del sistema di acqua come arriva l'acqua nel rubinetto a Dublino che parte dal reservoir eccetera ed è di una bellezza unica quella quella descrizione cosa c'entra non lo so ma è di una bellezza unica che questa idea dell'interconnectedness delle cose che Joyce ha nel libro questo modo di rendere insomma questo fa parte della vita di Dublino perché il grande protagonista diciamo non human del libro è la città stessa di Dublino e Joyce ha una consapevolezza di questo e non c'è nulla di male di pensare a come arriva l'acqua nel rubinetto insomma e di vedere quel viaggio che fa come come fa quel testo in quel momento che io trovo prima trovavo alcune cose in quel capitolo ridondanti adesso li apprezzo sempre di più proprio per questa capacità anche di riflettere di ma con una chiarezza incredibile e di dettaglio perché Joyce era un fanatico per i dettagli scriveva sempre alla zia Josephine Dublino chiedendo di non sbagliare le strade a che numero stava questo negozio eccetera eccetera per cui ricostruisce Dublino nel suo romanzo in un modo molto affidabile infatti lui diceva no se dovesse essere distrutto Dublino si potrebbe ricostruirla seguendo le sue descrizioni nell'Ulisse è un po' vero dico questo solo per dire che è un libro insomma che ha dei ridici nella realtà irlandese di quei tempi insomma è una è tante cose ma è anche un ritratto della città un ritratto molto realistico che a me fa ricordare spesso anche i vecchi film proprio parlo di silent cinema no cinema delle origini in cui c'era questa volontà di far vedere sullo schermo ordinary people le persone come noi e anche questo è un tema del libro di mettere l'uomo mediano come Bloom proprio come protagonista l'uomo ordinario non un eroe ma una persona riconoscibile a tutti proprio su questo discorso di Dublino secondo me questo è un argomento molto importante non mi riferisco solo alla città di Dublino ma proprio alla storia di Dublino e dell'Irlanda viene citato sempre nella guida un passo del settimo episodio quello ambientato nella redazione giornalistica dove c'è a un certo punto un confronto fra l'impero romano e quello britannico viene detto a un certo punto il romano come l'inglese che ne segue le orme a ogni nuova costa sulla quale ha messo piede ma sulla nostra non ce l'ha mai messo ora lì si parlava più che altro di questioni retoriche oratorie io più che altro volevo prendere in prestito questo passo per dire che il romano effettivamente all'epoca non mise mai piede sulla costa di Irlanda nel senso che non l'ha proprio mai incontrata storicamente e quindi cosa succede che oggi per noi italiani diciamo i nuovi romani purtroppo la stessa storia di Irlanda ci è molto sconosciuta praticamente nelle scuole non è insegnata cioè a differenza magari di quella inglese per dire questo secondo me è un problema per la lettura dell'Ulisse in quanto la storia di Dublino e dell'Irlanda e dei suoi esponenti è continuo è un ricorrere continuo io vedo penso che lei abbia notato questa cosa perché vedo che all'interno della guida una cosa che ho apprezzato molto è che lei cerca di spiegare ogni qualvolta nel corso degli episodi si fa riferimento a vicende storiche o a personaggi importanti ho visto che lei cerca di dare un'impronta storica della situazione in modo da far capire al lettore di cosa si sta parlando perché effettivamente può essere un problema quello del fatto di non conoscere la storia di Irlanda perché effettivamente Joyce ne parla quasi come se ne parlasse solo a un pubblico irlandese per cui lo dà per scontato insomma quindi ecco penso che lei abbia notato questa cosa perché è molto presente nella guida questo contributo sì ah ok sì forse non l'ho fatto così consapevolmente ma è interessante che lei insomma l'ha visto questa cosa e chiaramente ha ragione perfettamente ragione l'idea italiana dell'Irlanda è un po' vaga un po' Celtic un po' whiskey Guinness e poco altro i nostri diciamo politici del passato importanti sono nomi qua sconosciuti Daniel O'Connell Charles Stuart Parnell sono figure diciamo importantissimi ma poco appunto conosciuto anche perché l'Irlanda era poco conosciuto non scordiamo che l'Ulisse e lo stato irlandese nascono nello stesso anno 1922 Joyce insomma da secondo me nell'Ulisse da forma proprio alla sua nazione Irlanda insomma per me il libro si occupa principalmente appunto dell'Irlanda di cosa è Irlanda di quali sono i strati della storia di perché gli irlandesi sono come sono per me ma non sono tutti d'accordo con me lui il principale lettore che aveva in mente era un irlandese lui voleva cambiare Irlanda facendola vedere no nel nel cracked looking glass no in questo specchio rotto che lui ritiene sia il suo Ulisse e questo crea dei problemi chiaramente a un lettore che non conosce bene Irlanda infatti spesso chi apprezza Joyce ha già apprezzato Irlanda ha già visitato Irlanda no e poi va a leggere Joyce appunto in questa in questa chiave sì io ho tentato di senza mettere troppo potrebbe diventare molto facilmente pesante una guida che spiega troppo e forse a volte spiego pure io troppo ho la sensazione quando sento alcuni studenti a fare l'esame sull'Ulisse che più che leggere il libro hanno letto la guida che forse dovevo dargli meno informazioni non lo so no non è vero insomma secondo me bisogna trovare il modo giusto la storia irlandese resta poco spiegato ci sono anche pochi libri in Italia tradotti di storia irlandese è sempre una parte minore dei corsi anche nei scuoli linguistici insomma le scuole superiori italiani e questo è un limite e dobbiamo lavorarci insomma io negli anni ho fatto molte lezioni nelle scuole soprattutto a Trieste ma anche con gruppi che venivano a visitare Trieste proprio sulle orme di Joyce e spesso parlo anche dell'esempio di Trieste quella volontà iridentistica che c'era nella città nei tempi di Joyce per paragonarla a una cosa simile in Irlanda questa volontà questa voglia di essere indipendenti senza entrare nel dettaglio appunto della storia irlandese si può vedere cose che hanno corrispondenze anche in altre situazioni nel mondo e uno può leggere il libro anche in questo modo in questo modo qua perché vedo pure l'Ulisse molto di Trieste e per un italiano non lo so questo potrebbe essere un po' un modo di entrare nelle cose nelle complessità del testo per quanto riguarda la storia giustamente giustamente e io ho un ultimo punto che volevo che volevo approfondire l'avevamo proprio accennato all'inizio parto un po' alla lontana c'è un altro autore Kafka un autore di libri che vengono appunto ritenuti inquietanti assurdi però dalle biografie si racconta di come lui facesse ridere tutti i suoi amici quando leggeva insieme a loro il primo capitolo del processo adesso io leggendo l'introduzione in questa guida ho per esempio avuto modo di leggere quanto Nora la moglie di Joyce scriveva dicendo che lui si divertiva molto mentre scriveva l'Ulisse al punto che lei certe notti non riusciva a dormire vado a letto e poi quell'uomo si siede nella stanza accanto e continua a ridere della sua stessa scrittura e poco dopo sempre nell'introduzione Enrico Terrinoni uno dei traduttori dell'Ulisse di cui parlavamo prima scrive Ulisse è certamente in primo luogo un testo comico ma la sua comicità è a scoppio ritardato la si capisce solo in un secondo momento quando ci riflettiamo su è una comicità carsica corrosiva che una volta compresa non ci abbandona più ecco allora tornando anche qui al lettore di oggi io penso che ci sia anche questo problema qua che il lettore di oggi è abituato a voler capire tutto a cercare le trame a cercare gli intrecci non è abituato magari come diciamo prima ad ascoltare musicalmente ma ho paura che magari non sia neanche più tanto abituato a ridere a sorridere e ho paura che effettivamente quest'opera non venga assolutamente presa come un qualcosa di comico e invece magari potrebbe essere proprio una chiave di accesso anche perché poi parlando anche in maniera razionale se l'Ulisse è un libro che fa un po' paura quale miglior antidoto alla paura c'è del riso quindi anche questo chiedo conforto a lei quindi l'Ulisse è un libro in cui si può è un libro che si può leggere anche ridendo sorridendo non soltanto pensando che sia qualcosa di impossibile oscuro e enigmatico e enigmatico condivido questo modo di vedere l'Ulisse io lo trovo molto divertente certo a volte ha ragione Enrico Terinoni appunto si ride dopo quando uno deve spiegare una barzelletta insomma perde il suo effetto diciamo per cui inevitabilmente certe cose non vengono colte perché sono difficili di tradurre per cui qualcosa va perso Terinoni ha fatto molto per inserire la comicità nella sua traduzione a mio avviso è riuscito bene Joyce si riteneva il libro divertente e comico io trovo Bloom comico un uomo comico che deriva anche appunto del film del cinema delle origini pensiamo più tardi però a Charlie Chaplin ma pensiamo a Fregoli pensiamo a queste figure sempre vestite di nero che camminavano nelle città e fanno una serie di hanno una serie di misavventure e questo è un po' Bloom nell'Ulisse e poi lui ha un modo di pensare che è fuori luogo nell'Irlanda i suoi commenti anche quando andiamo uno dei capitoli più bui se vogliamo e Hades andiamo nel cimitero pensiamo riflettiamo sulla morte ma il modo così matter of fact di Bloom di pensare alla morte non può che farci ridere insomma è davanti alla morte davanti all'oscurità della morte insomma è il suo modo di concepire la morte è così in contraddizione con il modo cattolico insomma dominante in Irlanda in quei tempi irreverente è un modo però che ci fa anche poi pensare perché alla fine il senso di un grande libro è che ci fa pensare secondo me alle grandi questioni e tramite la comicità Joyce anche tramite la comicità Joyce riesce a fare questo e il libro non deve essere sempre trattato in modo solenne perché più uno dice questo è un grande classico più i ragazzi giovani vogliono chiudere insomma secondo me devono essere libri anche di dire che un certo capitolo non piace per esempio io trovo Oxen of the Sun no? il Mandire del Sole no? il quattordicesimo episodio ostico lo trovo ancora oggi difficile perché è una serie di parodie di testi scritti in inglese se voi se uno è molto erudito e ha letto tutti quei testi in inglese testi oscuri allora forse è divertente però la parodia funziona quando uno sa l'originale diciamo ed è molto difficile in questo caso certi autori uno riconosce insomma in qualche modo ma è anche un grande problema per il traduttore perché si sa che non può riprodurre questi testi qua per me oggi è il capitolo che funziona non funziona peggio delle altre anche se è brillante è incredibile quello che Joyce riesce a fare perché è anche tutta la storia della lingua inglese però è una comicità quella appunto per persone molto colte che hanno già un apparatus che tanti lettori non hanno ma se non piace saltiamo non cambia niente io la guida funziona anche in questo senso c'è una guida che più o meno riassume quello che succede quello che c'è importante e andiamo avanti non c'è nulla di male in questo io un po' è come si va si ascolta l'opera lirica ci sono delle cose bellissime che piacciono quello che piace a me magari non piacerà a lei ma non c'è nulla di male nel saltare non col sì di fare un salto in avanti e così va preso anche l'Ulisse in modo irreverente non reverente perché Joyce stesso vediamo cosa ha fatto il povero Romero che sarebbe la base di questo ma ha rivoltato tutto anche il lettore è libero di fare questo sì sono d'accordo anche su questo discorso di togliere un po' di eccessiva solennità a questo libro perché penso che non è ciò che volesse Joyce fra l'altro l'Ulisse inizia con stately un aggettivo che non viene associato a un personaggio tanto positivo Buck Mulligan di questo romanzo quindi effettivamente creare troppo un'aura di magnificenza e solennità sull'Ulisse forse non rende veramente neanche giustizia a quello che poi Joyce aveva in mente quindi anzi benvenga l'irriverenza benvenga anche spazientirsi qualche volta magari prendersi una pausa ricominciare dopo un po' insomma si può farlo con umanità ecco sì sì si può berlo anche con una birra in mano anche con una birra in mano non c'è nulla di male anche più di una anche più di una in chiusura intanto volevo far rivedere il libro la guida all'Ulisse di cui abbiamo parlato edita da Carroccio Editori eccola anche dall'altra parte del collegamento fra l'altro io sempre in quarta di copertina leggo che lei chiaramente aveva già portato altre pubblicazioni in precedenza James Joyce e gli anni di Bloom le questioni biografiche le tante vite di Yates e Joyce ne approfitto per chiedere se c'è anche qualche pubblicazione in arrivo nel futuro il prossimo anno è il centenario della pubblicazione dell'Ulisse per cui ci saranno tante cose ho fatto una postfazione ad un'edizione dell'Ulisse che esce in Brasile chiaramente quello sarà in lingua portoghese ho scritto e esce il 2 febbraio che è il giorno in cui venne pubblicato l'Ulisse un libro che si chiama in inglese Consuming Joyce 100 Years of Ulysses in Ireland e che fa la storia il destino del libro di come è stato accolto in Irlanda questo grande libro di Joyce il rifiuto iniziale poi alcuni insomma pochissimi che hanno capito l'importanza dell'opera poi la chiusura totale verso Joyce negli anni 20, 30, 40 in cui il cattolicesimo non permetteva una lettura del genere si parlava anche di preti che si vedevano un libro di Joyce in una casa dei membri della parrocchia li lo portava via per distruggerla perché chissà che effetti avrebbe avuto sul pubblico e poi poco alla volta negli anni 50 e 60 poco alla volta gli irlandesi cominciano ad apprezzare Joyce e a leggere e anche a dire timidamente che forse andava un po' riabilitato la figura di Joyce per poi negli anni 80 c'era il centenario della nascita che finalmente Dublino è un po' cominciato ad abbracciare questo esule che aveva la temerità di criticare tanto Irlanda di criticare il nazionalismo la chiesa cattolica le due cose portanti del paese in quel momento e fino ai giorni nostri in cui viene sfruttato in tutti i modi possibili da tutti quanti tutti vogliono un pezzo di Joyce che è diventato un simbolo un'alternativa al San Patrizio in Irlanda il santo secolare che non vuol dire che tutti vanno a leggere Joyce ma diventa un nome anche comodo che rappresenta un'Irlanda moderna aperta dà una visione anche europea una dimensione anche europea all'Irlanda attuale e per me è stato affascinante studiare questo lungo movimento che va avanti insomma perché Joyce appunto viene studiato adesso molto in Irlanda fino agli anni 60 70 non c'erano professori irlandesi che volevano scoprire di Joyce avevano paura sia della complessità sia di magari non essere apprezzati per il fatto di occuparsi di lui questo è cambiato ma molto tardi arriviamo con 50 anni di ritardi senza gli americani gli studi joyciani non esisterebbero adesso gli americani fanno altre cose Joyce è in calo nei Stati Uniti nelle università però c'è un grande fermento nei studi irlandesi dell'autore better late than never sì esatto meglio tardi che mai e adesso è il momento anche di noi europei di noi italiani di darci un po' da fare su di questo magari approfittando appunto di questo centenario in arrivo allora io la ringrazio veramente moltissimo di questa conversazione piacevole intanto e poi ricca di spunti interessanti e sono sicuro che chi avrà modo di ascoltarla e di acquisire di acquistare questa guida avrà sicuramente materiale in più da approfondire e anche delle rassicurazioni in più per procedere in questa lettura per cui la ringrazio veramente tanto di questa sua disponibilità e la saluto augurandole buon lavoro per questi per queste nuove opere che sta affrontando e magari con la speranza di poterci rincontrare in qualche modo magari da vivo no? magari in presenza magari questa volta addirittura con lusso di vederci in presenza chissà chissà eh sì speriamo sì sì ci vuole questo e io a mio modo volevo anche ringraziare per il lavoro che fa per anche aiutare le persone nell'approcciare questo difficile libro questo bellissimo libro perché mi sembra un contributo prezioso per cui sono stato molto contento di poter far parte di questi broadcast che sta facendo sull'ulisse di Joyce grazie mille grazie a lei professore grazie molto ancora è un saluto ok arrivederci grazie arrivederci